Mauro Busio, Presidente dell'Associazione Bocciofila della Rinascita Nuorese. Sabato la società ha promosso un torneo di bocce nell'ambito delle manifestazioni pro sul monte organizzate dal Comitato Monte Ortobene e Ultima Spiaggia. Una prima uscita per una società che intende raccogliere un'eredità secolare perché Nuoro è una delle capitali italiane delle bocce. Sì, un'eredità importante, siamo ben consci di questo, però siamo anche molto ottimisti per il futuro. Il nostro scopo è quello di organizzare manifestazioni di questo tipo, poter coinvolgere sempre più persone e far conoscere a chi non conosce questo bellissimo sport che è il gioco delle bocce, ai nuoresi ma anche a persone che arrivano da altri luoghi. Lo scopo è naturalmente quello di fare sport, fare attività e dare la possibilità alle persone di avere un'alternativa importante. Il gioco delle bocce è uno sport accessibile a tutti, persone di ogni età, quindi giovani, anziani, diversamente abili. E quindi in funzione di questo noi saremo ben contenti di poter organizzare manifestazioni come quella organizzata sabato scorso al Monte per far sì che la cosa possa andare avanti. ci piacerebbe tantissimo anche poter usufruire delle strutture al coperto cittadine, questo naturalmente grazie alla collaborazione del Comune che gestisce queste strutture sportive. Noi come associazione nuova alla Rinascita Nuorese che io rappresento ci impegneremo al massimo per far sì che questa cosa si realizzi. Infatti la cosa che noi ci auspichiamo è che sia le istituzioni sia la gente risponda a questo nostro appello che poi non è altro che un invito a continuare a praticare sport in una città che è già piena di persone che praticano non solo altri sport più conosciuti, ma speriamo anche lo sport che noi stiamo promuovendo che è il gioco delle bocce.